Tutti contro mano, contro mano, contro mano, dietro, indrio, indrio, tutti indrio, è contro mano se non si può andare. Attenta, il gibillero, il gibillero stamattina, dai, per piacere fai fare manovra, attenzione, col pulma, ecco qua cosa si crea, il pulma, eh sì, signora, piano, piano, non mi entri nella macchina, vada piano, vada piano, vada, e lei se va indietro va avanti, avanti e indietro, avanti e indietro, non si può signore, non sarebbe dovuta neppure venire, stiamo a fare i vigili urbani, stiamo a fare i vigili urbani, manca il signore qua, che fa con la palestra, che chiude, poi qua se no noi apre, via vai, via vai, se ti vuoi litigare ti ritiri ogni giorno, poi evitiamo, voi state qua e fermate, interrompete il servizio, avanti e indietro, avanti e indietro, va la quadriglia, la signora sta facendo una manovra incredibile, avandola la signora, attenta, un disastro, un disastro, pensi, pensi che il signore ha detto questo è scemo, lei è scemo, ha detto questo è scemo, lui col bambino dietro e contromano con la bici, ma lei è scemo, c'ha proprio la faccia dello scemo, veramente, vada, vada, se lui arriva contromano, arrivassi un pullman, non si può andare, ci sono anche i cartelli, non ci ha fatto caso, ci faccia più caso la prossima volta, un caro abbraccio, guardi il cartello e contromano, lei lo fa con disinvoltura, così, con nonchalance, calance, è vero? Mi stia bene, vada, vada, c'è scritto, guardi, c'è dappertutto, c'è dappertutto il divieto, alla barese, bravissimo, la guida alla barese, ha individuato il senso di questo articolo, viso de bar, e allora passo, e allora passo, non è così, circoliamo, circoliamo, vada, 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 libero, libero, vada, 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 provate a immaginare cosa succede tutti i giorni quando arriva il bus dal senso giusto di marcia e invece si ritrova l'autovettura che gli sbatte in fronte, come avete sentito, se volessero litigherebbero tutti i giorni, ma non lo fanno e quindi aspettano che diligentemente i cittadini, gli sudbar, facciano retromarcia. Questa è una lezione di guida alla barese, ecco come non si rispettano i segnali stradali.